Con voi Martino Ciano per le notizie del giorno in Calabria. La sanità calabrese sarà supervisionata dal Veneto. È stato firmato ieri al Ministero della Salute il protocollo d'intesa che da mandato all'azienda ospedaliera di Padova la supervisione sul comparto regionale, in particolar modo per la riorganizzazione della rete chirurgica e per limitare anche l'emigrazione sanitaria. La rabbia del parlamentare del Movimento 5 Stelle Francesco Sapia che ha detta Ancora una volta diventiamo terra di conquista. Sono pronto alle dimissioni se non si porrà rimedio a questo atto. Prime mareggiate e primi danni sul Tirreno Cosentino. Parte del lungomare di Lampezia di Cetraro è stato devastato dalle onde dei giorni scorsi. Una porzione di oltre 30 metri di strada è stata divorata. In genti i danni la zona è stata transennata. A verbicare il consigliere comunale Arturo Riccetti ha scritto al primo cittadino Francesco Silvestri per sottolineare il grave problema dell'impianto fognario in località ravita. Basta un acquazzone ed ecco che i liquami fuoriescono dalla condotta come è successo in questi giorni. Si intervenga urgentemente. A scalea slittano a data da destinarsi le elezioni del presidente del nuovo consiglio della Proloco. A bloccare il tutto è stato l'UMPLI. Questo perché si è visto un certo interessamento politico che potrebbe sviare la Proloco dalla propria mission. Così in un comunicato stampa Antonello Grosso Lavalle dell'UMPLI Cosenza. Le elezioni avrebbero dovuto tenersi il prossimo 10 novembre. Partirà da Corigliano Rossano il tour che porterà la portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Elisa Scutellà nelle scuole calabresi per promuovere il programma Facciamo Ecoscuola. Si tratta di un progetto finanziato con 3 milioni di euro, dei 103 restituiti dai parlamentari pentastellati destinato a riqualificare in chiave green gli istituti scolastici. Saranno finanziate idee innovative ed ecosostenibili per un massimo di 20 mila euro. E quanto fa sapere la stessa parlamentare pronta ad avviare questa nuova campagna di promozione nella sua regione partendo proprio dalla sua città. Nella giornata di ieri il capogruppo di Oliverio Presidente nonché leader di Italia del Meridione il consigliere regionale orlandino greco ha presentato una proposta di integrazione alla legge istitutiva dell'autorità idrica della Calabria. Di fatto la proposta legislativa apre in prospettiva un dibattito concreto che obbliga la massima assise regionale a emanare un provvedimento necessario a dare dignità, autonomia e risorse ai comuni dell'entroterra calabresi in cui territori sussistono sorgenti, pozzi, depositi, derivazioni di acqua e laghi che vengono immessi negli acquedotti regionali. Sono queste le parole di soddisfazione espresse da Antonio Pappaterra referente di Italia del Meridione del Tirreno-Cosentino e Scalea. Belvedere Città Futura ha votato contro il dissesto finanziario non perché non riconosca la disastrosa situazione finanziaria dell'ente causata dal modo scellerato di amministrare delle giunte a guida granata ma perché è stata scelta dagli attuali amministratori la via più semplice, meno onerosa e più conveniente da un punto di vista strettamente politico. Questo quanto dichiamano dai banchi della minoranza attraverso un comunicato stampa. L'attuale amministrazione, si legge, non ha avuto il coraggio di provare a di intraprendere una via diversa, forse più problematica per chi amministra ma sicuramente meno devastante per i cittadini e per i creditori. È tutto, grazie per averci seguito.